Ben ritrovati ragazzi, siamo appena tornati dalla pausa cena, abbiamo i bui a 300-600 con l'ante a 50, è stato comunicato anche il price pool che vede la prima posizione pagata con 20.000 Euro. Per quanto riguarda invece le ultime posizioni, tanto per renderci conto, verranno pagate con un premio di 1000 Euro, quindi quasi il doppio del buy-in, in modo che comunque sarà possibile recuperare anche qualche spesa morta sostenuta per rendere parte al torneo. Siamo con 100 player left e quindi, come già avevamo accennato precedentemente, 138 player hanno preso parte a questo D1B. 34 minuti alla fine del livello 8 e vi ricordo che come ieri verranno giocati 13 livelli per questo D1B. Vedete una panoramica della sala, vedete che comunque siamo ancora a pieno regime per quanto riguarda l'affluenza, infatti solamente una trentina di giocatori abbondante è stata eliminata in questo avvio gara, quindi insomma è ancora tutto da vedersi. Noi ci diamo appuntamento sul forum, vi ricordiamo che potete seguire tutte le mani in esclusiva su pokeritaliaweb.org, buon poker a tutti e al prossimo aggiornamento. Ciao ragazzi!